In l'ultimo anno siamo più focalizzati nel big boat, ma sicuramente lavoriamo anche con altri shipyards, per un smaller boat, tender. In questo boat abbiamo anche designato il limousine e abbiamo potuto designare anche un boat di 10 metri, fino a un bigger boat che abbiamo in costruzione. Dobbiamo essere molto flexibili, perché hanno diversi shipyards, diversi clienti, clienti di un altro paese, ma ogni volta vogliamo dare il nostro stile italiano con un'interpretazione, perché anche il cliente è il owner del boat e dobbiamo dare il sogno, dobbiamo realizzare il suo sogno. Vi darò un esempio. Questo cliente piace molto il stile eclettico, il stile deco e per me, quando abbiamo messo, specialmente in questo boat, abbiamo messo sul tavolo come il primo brief, è stato troppo, ho detto al cliente. Mi piace, ma facciamo un passo. Io rispetto il vostro spazio, ma posso dare un'interpretazione del vostro spazio? E mi ha detto, Ricco, vediamo se mi piace, sì. E questo è il risultato. È un'interpretazione di questo tipo di stile, che non sono completamente italiani, ma questo è un stile deco con un stile contemporaneo italiano. E abbiamo messo, e abbiamo trovato questo compromesso corretto, per me. Non compromesso, ma una direzione corretta. Siamo molto orgogliosi di questa creazione, specialmente perché prima ho fatto per uno dei miei migliori clienti, anche un amico, che abbiamo già fatto la bocca precedente. E poi era anche più facile, perché vedo esattamente il suo sogno e anche altre altre cose per lui. E poi sono molto orgoglioso, prima di tutto questo. E anche, mi piace molto questa bocca, perché siamo arrivati al obiettivo che abbiamo avuto prima, che era l'atmosfera calma, che era il primo richiesto del cliente. Perchè, Ricco, mi dà una bocca calma, non così calda, con troppo minimale. E credo che il risultato, dal mio punto di vista e dal mio punto di vista del cliente, è corretto. E poi sono molto felice di questo. E sono anche molto felice, perché il cliente ci trova tanto, che ci dà l'opportunità di occupare di tutto, fino, come ho detto prima, la cartellina e i dishes, tutto. Perché per lui, tutto che puoi vedere è stile. Certo, non ci occupiamo di più di tutto, ma tutto, anche quando preparano la tavola al tavolo, non è la stessa colorazione di tutte le decorazioni. Alla fuori, ci occupiamo di tutto. Ho natato a Venice, e quando ero figli, ho abbonato i miei occhi e guardo a Venice. Venice è la bellezza. È una cosa dove c'è estetica, la proporzione, molti stili. e poi tutti i bambini leggono, con l'occhio, da due o tre anni, la bellezza. E poi questa bellezza viene dentro di noi, e abbiamo molti altri buoni cittadini. Ma credo che questo è il risultato. Perché l'Italia è così bellezza, che l'abbiamo appena appena da la storia, la proporzione, il stile. Questo è il risultato, ma sono sicuro di questo. Ci sono molte richieste. Questi vengono da un nuovo cliente, e poi possiamo anche parlare sulle nuove richieste del mercato. Perché per ora abbiamo un cliente che chiede, credo, il più abbonato nel mercato, che non è così facile. prima per un problema tecnico, ma anche per un punto di vista design che ho cercato di preservare tanto possibile. Ma oggi il cliente, in particolare questo cliente, che ha chiesto di un nuovo progetto, vogliono molto abbonato, più contatto con il mare. non solo sulle strada, come la piazza, ma anche la parte, ma anche la parte. Sono sul canale, e vogliono abbonare il bambino come possibile. Vogliono più connessione con il mare. La natura deve arrivare. E quando ho detto di un grande abbonato, questo significa che le parte del bambino sono abbonati. E penso che ci sono iniziative molte richieste. È un tipo di innovazione, ma non è così facile e voglio dire immediatamente sì. Perché, prima di tutto, quando siamo in un bambino, quindi, sai, dobbiamo guardare. E ho cercato di preservare le forme del bambino. Perché quando alcuni clienti mi chiedono un bambino, non ho capito. Credo che ogni designer non può dire che sono l'unico. Perché mi piace vedere sull'anchore un bel bambino. Non ho parlato di dettaglio, ma la proporzione. la proporzione deve essere perfetta. Non compromiso.